Forse prima di tutto si può dire che se stesse morendo il fatto che possa morire non è una cosa negativa, nel senso che lo rende umano, lo rende più simile alla vita e il fatto che sia fragile, il fatto che possa essere un'arte che è stata necessaria e che morirà, però io non credo che sia adesso il momento di celebrare questo funerale, perché forse prima di rispondere a questa domanda, se è qualcosa che si sta perdendo, un'arte che sta morendo, forse bisogna chiedersi di che cosa abbiamo bisogno, che cosa è vivo adesso, in quest'epoca nel 2022 e penso che in un'epoca di che cosa abbiamo bisogno, di che cosa abbiamo bisogno in quest'epoca, in un'epoca così fissata con l'individualismo, così costruita sull'individuo, sulle necessità individuali, sui propri spazi abbiamo bisogno di cose collettive, abbiamo bisogno di luoghi collettivi, di esperienze collettive, di riti collettivi, più che mai. In un'epoca soffocata dalle immagini, con tutte queste immagini che ci assaltano dalla mattina alla sera, di che cosa abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di uno sguardo, di qualcuno che ci faccia vedere ciò che vede, di una molteplicità di sguardi ma precisi, distillati. In un'epoca piena di storie, dove pure tutto è accompagnato e condito dalla sua propria storia, abbiamo bisogno di poesia. In un'epoca in cui tutto tende nella direzione del controllo assoluto, del controllo delle notizie, del tempo meteorologico, della propria vita, del controllo ossessivo di ciò che voglio vedere, di ciò che posso ascoltare, scelgo ogni musica, scelgo ogni film, scelgo ogni libro, scelgo tutto, forse in quest'epoca di controllo ossessivo abbiamo bisogno di perdere il controllo. E questi elementi hanno solo una risposta che qualcosa che ci faccia perdere il controllo, qualcosa che non possiamo controllare, qualcosa che ci dia delle immagini distillate, scelte, una prospettiva, lo sguardo di un altro, qualcosa che sia un rito collettivo. E beh c'è solo una cosa, che è tutto ciò e che è il cinema, qualcosa che sia anche poesia. Grazie.